Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard e benvenuti in Royal Rumble ragazzi Finalmente è arrivato l'aggiornamento del nuovo tier, nuovo livello E però ragazzoli siamo ancora qua come vedete l'icona ad avanguardia double plus ma ancora per poco ragazzoli ancora per poco Guardate quanto manca uno spicciolo ragazzi Ancora veramente poco probabilmente con la fine di questa settimana quindi con un altro slot impeto arriverò a livello Royal Rumble Prendiamo sta freebie e tutto quanto sarà bellissimo Però comunque sia abbiamo se avete visto anche negli ultimi post su Instagram almeno un'altra carta da farci pro avanguardia Anzi sarà la nostra seconda carta avanguardia che faremo però perché abbiamo già Ronda Rousey Questa ragazzi eccola qua abbiamo Eric Rowan perché ma eccolo Eric Rowan che ancora non l'avevo neanche allenato però abbiamo lui preso nel se non vado errato era presente una delle prime ring domination mi pare di ricordare mi pare Mentre l'altro l'abbiamo ottenuto nell'ultima battleground in una delle ultime team battleground Quindi signori almeno lui ce lo facciamo Poi un'altra carta che ancora non è non possiamo farla però ma presto lo sarà Ragazzi da quando è uscito l'aggiornamento e ho riaperto il gioco dovevo ben circa 3 ore di manutenzione quindi neanche troppo Sinceramente pensavo molto di più però vabbè Ho aperto il gioco c'era il faccione di Samuaggio sono dato a ring domination che era completamente bugata come al solito Aprendo l'evento ho visto la carta primordiale che adesso non mi ricordo chi era poi era scoperta già la carta avanguardia che è Finn Balor Non l'ho ancora scoperto del tutto però penso che sia lui al 100% quasi ormai E poi la carta Royal Rumble che non me la faceva vedere ragazzoli quindi è ancora un mistero a me per quanto riguarda me Ma quando c'era questo video già tutti quanti mi spoilerete tutto quanto l'evento questo e anche quelli futuri E si ragazzi a questo punto in ring domination andiamo un attimo a aggiornare perché stavo giocando in un deck scarsissimo Giusto per vincere molto più easy Questo è il deck al massimo ho allenato anche il nostro Joe McIntyre che adesso è anche pronto con i 100 incontri Quindi andiamo a recuperarlo dal performance center Ho deciso di allenarlo perché comunque Royal Rumble è più forte di un'altra avanguardia qualsiasi Quindi grazie a lui sono arrivato al nuovo tier almeno in questo evento qua ragazzi Quindi tier Royal Rumble in questo evento possiamo giocare per la carta avanguardia a questo punto Sì Finn Bellor 101% mi sembra proprio che sia lui Andremo poi a prenderci la Royal Rumble e poi Kevin Owen non credo di poterlo prendere Non ho intento, cioè la prossima settimana c'è da Road to Glory quindi sarà complicatissimo finirla Visto che ancora lì sono ad avanguardia nemmeno più quindi Mi fermerò probabilmente qua alla carta, mannaggia, alla carta Royal Rumble base e stop Penso che farò, poi comunque beh se ho altro tempo penso che posso andare avanti Però mi piacerebbe più fare altre cose ovvero andare qua nella Royal Rumble Almeno per, questo almeno per arrivare almeno almeno a prendermi tre slot impeto Quindi almeno al quarto livello perché se almeno sblocco lo slot impeto Sicuramente arriverò a Royal Rumble anche senza allenare Rick Rowan Stavo per dire Rowan Reigns, una fusione Finn Bellor o comunque uno dei due Sicuramente già con uno probabilmente Finn Bellor Do priorità a lui sicuramente Arriveremo al tier superiore però vabbè Aspettiamo sicuramente già con l'impeto possiamo fare molto molto altro Allora ragazzi intanto avete visto che ci sono anche le nuove missioni Quindi per una decina di giorni abbiamo questa roba qua Possiamo trovare carte anello e carte orologio Un draft board e anche dei pacchetti gratuiti che tra l'altro posso prendere E in più comunque questa carta, questo pacchetto ci dà la possibilità di portarci in tasca Una carta da primordiale a Royal Rumble Questo probabilmente per, ora non so se vale per tutti i livelli del deck Ma almeno per quanto riguarda me che sono ad avanguardia quasi Royal Rumble Mi parte da primordiale fino al massimo Penso che comunque questo sia il massimo livello che si possa ottenere in questo da primordiale in su Quindi penso vada bene così E poi queste altre missioni ragazzi sono importanti 50 Royal Rumble, ecco perché infatti voglio giocarmi la Rumble giusto per questo Perché ti danno 100 crediti, 50, 200, insomma è tanta robetta Cioè sono crediti che prendono delle missioni e so tanta tanta roba Sono abbastanza di creditucci insomma Quindi vanno fatti, a parer mio vanno fatti E poi come avete visto abbiamo anche la nuova camera di fusione A tema Royal Rumble Con le nuove carte Royal Rumble Carica È grande Dobbiamo trovare 8 anelli Eccoli qua Oh perfetto, già li sblocchiamo Perfetto, quindi fra 4 ore avremo il nostro ring Possiamo utilizzare altri qui 6 orologi e 2 anelli Per avere sempre una carta che va fino ad avanguardia però ragazzole Quindi qui attenzione Qui magari per chi è in deficit di carte anello Magari può tentare questo magari negli ultimi giorni Però io consiglio di andare direttamente a questo punto Per tutti quanti a fare questo rumbling Signori con 8 anelli Perché possiamo arrivare fino a Royal Rumble Cioè da primordiale a Royal Rumble Questo è lo stesso pacchetto che c'è nella missione di là Quindi ragazzi fatevi questo E sicuramente non ve ne pentirete Forse sì ma forse no E niente qui siamo ancora qui al link Poi ricominceremo un po' di piano piano Vedremo se riusciamo a fare qualche avanguardia Prova anche la camera di fusione Allora ritiriamo intanto il nostro giù E spam Ok lui è al 100% ormai proprio del tutto Allora non so se dall'ultimo aggiornamento è cambiato qualcosa Per quanto riguarda anche l'esperienza del livello delle carte Io praticamente questo Joe McIntyre l'ho allenato con due carte incubo al 100% Più un miglioramento cataclisma Cavoli da parte Ed è arrivato al 100% del livello Quindi non so se magari è cambiato qualcosa Non credo Dite me sotto nei commenti magari se ne sapete di più Perché magari dall'ultimo aggiornamento ci sono anche cose nascoste che Perché magari nell'aggiornamento c'è stato Ci sono cose che ancora devono uscire in gioco Ma che sono già nello script E tra l'altro se andate e vede qua Sicuramente l'avete già visto Nel centro assistenza Ovvero c'è tutto quanto il tutorial del gioco Abbiamo questo nuovo menu Che è carino Schema draft board ragazzi Questa roba qui è una cosa che sinceramente aspettavo da tanto tanto tempo Ditemi voi ma quante volte nella draft board avete fatto dei disegni Delle robe cose varie Dei peni Questa volta adesso non so quando arriverà questo mini gioco in draft board Però possiamo trovare degli schemi in draft board Globali Che sono uguali per tutti quanti Mi dici qui Quindi per tutta quanta la community Sbloccato quello possiamo sbloccare anche quelli personali Quindi ogni volta che completiamo Ci sarà sicuramente del tempo Sì infatti a tempo Ma comunque c'è Anche tempo minimo sicuramente è facile da fare Ogni volta che devono ripristinare draft board Possiamo trovare qualche schema Cercare di copiare questo schema in draft board E una volta pescate le carte quelle che sono uguali a quelle dello schema insomma Ci daranno un'altra ricompensa extra E questa cosa sarebbe comunque carina Un incentivo in più per comunque andare a pescare carte in draft board e giocare Però comunque una cosa che volevo da questo aggiornamento Intanto comunque andiamo qua a giocarci questo evento Se intanto andiamo avanti E una cosa che mi piaceva davvero 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 Magari mettiamo un aggiornamento futuro Siccome ho visto comunque anche su twitter tanti feedback di tanti utenti Che si lamentano appunto di questo fatto del livellaggio delle superstar Ci vuole tanta tanta esperienza E quindi c'è devi giocare tantissimo Però andare a pescare sempre in draft board Tutte le carte che poi ottieni Mettele insieme per allenare le carte Con quella carta prenderla 100% allenare altre carte Insomma è un lavoro abbastanza lungo Il livellaggio poi nel performance center Funziona con i crediti E mi sembra quanti erano 300 crediti se non vado errato Per qualsiasi carta Insomma un po' scoccia fare questa cosa Un po' scoccia sia Andare a pescare tante carte Insomma giocare tantissimo Soltanto per allenare le superstar In modo da farle arrivare al 100% almeno dei livelli Per quanto riguarda gli incontri Va benissimo così Abbiamo il performance center Gli incontri non sono più quanti Sulle statistiche della superstar Ma sono soltanto 100 incontri per tutti Quindi questa cosa a me piace sinceramente Rispetto alle altre stagioni Però rispetto alle altre stagioni Il livellaggio è molto più difficoltoso Insomma E me l'avete detto anche voi nei commenti Eh no Sono scena Io personalmente Una piccola soluzione Ce l'avrei Ce l'avrei anche Lasciando anche le cose così come stanno Con le superstar Che Cioè i livelli Si alzano con tante carte in quel modo E va bene Però tipo io Sto giocando anche ad altri giochi Su smartphone Giochi RPG Dove il livellaggio dei personaggi Dele super Insomma funziona Allo stesso modo Te hai il tuo personaggio preferito Che vuoi livellare E le dai In tributo Tante altri personaggi Tante altre carte Per dare livelli A questo personaggio qua Però in questi giochi qua Ci sono anche Alcuni Oggetti Elementi Che stanno in questo gioco soltanto Con la funzione Di livellare Le carte Livellare i personaggi E questa cosa Sarebbe carina Aggiungerla anche qua In un aggiornamento futuro Un mini update Dove In draft board Oltre alle superstar Si possono trovare Vi ricordavate Fino all'anno scorso C'erano appunto i miglioramenti Che non valeva neanche come il reset Quando trovavi i miglioramenti Che ti risettavano Alla draft board Occhio eh Quindi anche questa cosa Deve essere così Anche in sesta stagione Non dico di ripristinare i miglioramenti Perché comunque Se arrivavano soltanto Per dare dei mini upgrade Per un tot di incontri Alle superstar Per boostarle Anche nella King of the Ring Io personalmente Le utilizzavo molto E volentieri Nella camera di fusione Perché comunque Un miglioramento E cui valeva Lo stesso punteggio Di una carta superstar Quindi Preferibilmente Utilizzavo un miglioramento Invece di buttare Una superstar Grande l'anello Perfetto E questa cosa Mi ha fatto pensare Che si potrebbe utilizzare Aggiungere In draft board O comunque nel gioco Delle carte XP Carte esperienza Che vanno dal livello Da livello bestia Che è il minimo Fino al livello massimo In questo caso Che è Royal Rumble E ogni carta XP Ogni carta che dà esperienza Ovviamente con un tasso di rarità Più alto Rispetto a quelle Delle superstar Ovviamente Però sarebbe carino Trovare in draft board Questi tipi di carte Che dovranno Essere uguali Cioè l'esperienza Di queste carte Preciso Queste carte Hanno soltanto la funzione Di dare esperienza Alle superstar E basta Non servono proprio ad altro Soltanto per l'esperienza Daranno tanta esperienza Quanto equivale Il livello della superstar Quindi Per esempio Per capire meglio Andiamo in draft board E troviamo una carta Di livello titano Che dà esperienza Carta XP Di livello titano Questa carta qui Darà tanta esperienza Quanto una titano Al cento per cento Quindi Vai a limitare Le carte di gioco In questo modo Ti vai a pescare E magari In cinquanta carte Puoi trovare anche Tre e quattro Di queste tipologie di carte E magari ti avvantaggi Anche nel livellare Senza dare troppe carte Basta magari Poche di queste E sei pronto Magari te le metti Da parte Soltanto quelle Giusto per allenare Le superstar che vuoi Poi le altre ci fanno E ti pare Insomma potrebbe essere Una cosa abbastanza carina Quindi Non valgono come il reset Se vai in draft board E trovi per esempio Una carta Colosso XP Quella carta vale Quanto una colosso Al cento per cento Quindi Se tu dai in tributo Un colosso Al cento per cento Ti dà 20-30 livelli Questa carta Ti dà 30 livelli E poi un'altra mini upgrade Che sarebbe carino Mettere in gioco Ovvero Vedere in diretta Direttamente Quando te vai a selezionare Le carte Quanta esperienza Stai dando Alla superstar Che Che gli sta dando Appunto Queste carte in tributo In modo da evitare Magari anche qualche spreco Insomma Ti magari Prendi la carta Livella E poi quando Vengono le carte fuori Ti clicchi In una carta E vedi quanta esperienza Sta dando Alla superstar In quel modo magari Vedete Quante carte dargli Quante sprecarne E quante no Perché magari Ti butti tutto quanto E magari Ne servono tanto 3-4 E tutto il resto Nel cesso Ora queste ose Prendetele un po' Con le pinze Perché comunque Sono idee Che mi stanno venendo Un po' A mente Magari Vari utenti Già hanno scritto Queste varie cose Magari In tanti Le avranno anche pensato Senz'altro Però magari Se stai guardando Questo video Che dedio Che ne so Insomma Magari Prendi Nota Di queste Di queste idee Del povero Crysis E magari In un piccolo Update futuro Magari anche Quello di Verslemania Potremmo Potremmo anche Ripensarci Di fare qualcosa Del genere Perché no Ragazzi Io Voto sì Io voto sì Per questa cosa Ragazzi Ci ho pensato Ho detto Secondo me Sarebbe una buona cosa Aggiungere delle carte In questo modo Allora Intanto Andiamo qua nel negozio Prendiamoci anche Le carte Quelle del Tanto comunque Abbiamo anche In esuberante Nuovi pacchetti Esuberante Bello Rai misterio Pacchetto da 1000 credit E poi abbiamo anche Il orologi Anelli 3500 Insieme a un pasagerato 7 anelli E 8 orologi 3500 Bestia Io un pasagerato Forse Quindi vabbè Andiamo più sicuri Con i pacchetti Quelli gratuiti Che mi piacciono Molto di più Sinceramente Allora Vedi qua che Oh buono Anello Buono 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 Ecco magari Poi magari Alcuni eventi a tema Dove anche Nei pacchetti Quelli gratuiti Ma che trovi Carte esperienza Perché no ragazzi Io voto sì Per le carte esperienza In gioco E l'altro pacchetto Un altro anellino Un altro anello Ci dalla bestia Stavolta invece È L'orologio Signori Il countdown Royal Rumble Intanto comunque Sono già usciti I pacchetti 9 a 5500 Crediti Carte Fino a Royal Rumble E va bene ragazzi Questo è quanto Andiamo intanto Ad allenare Le nostre superstar Continuiamo ad allenare Sempre le carte Incubo Tra l'altro Anche la carta Pro di Roman Reigns Che vedremo Un po' Se narla E darle in tributo Anche in rinforzo Ovviamente Anche gli altri due Potremmo anche farlo Sinceramente Per il momento Voglio un po' Allenare queste carte Qui e livellare Appunto quelle Avanguardie Che mi serviranno Per farle Pro prossimamente 95 carte Da livello 64 Si va a BAM 78 No mi sa che comunque Nell'aggiornamento Non è stato toccato Niente di ciò Quindi ragazzi Ripeto L'aggiornamento futuro Voglio le carte Esperienza Così tutto questo Rimane tale Va benissimo In questo modo Anche nel performance center Rimangono i crediti Per allenare queste carte E vabbè Però almeno abbiamo Un incentivo più qualcosa E poi tra l'altro Avremo anche da pescare In draft board Per cercare di fare Questi schemi Appena sarà disponibile Questo minigioco Quindi comunque dai Tante belle cosette Arriveranno Prossimo video Forse 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 No Questo video no Perché comunque Lo farò sempre Solo il ring domination Ma Entro questa settimana Spero di arrivare A royal rumble Prendiamo la freebie E tutto quanto Il resto E va bene Noi si ragazzi Io concludo anche Questo video Anche per oggi Ragazzoli Comunque se vi è piaciuto Invite a lasciare un sacco Un sacco di like Iscrivete su questi momenti Cosa ne pensate Anche di queste mie idee Se magari avete qualcosa Un pensiero vostro Magari qualcosa in più Comunque ditelo Magari Non solo per dirlo a me Nei commenti Ma magari per tutta Quante le comunità Legge i commenti Ma allora magari si Così tutti quanti Magari creiamo delle idee Qualcosa del genere Noi ci vediamo Nel prossimo video Ragazzoli Ciao a tutti Ciao a tutti